Musica Nella soleggiata Val Ridanna, lo Schneeberg Resort & Spa attende di sposi a 1380 metri di altitudine, adagiato ai piedi delle Alpi Stubai. A soli 20 minuti da Vipiteno è ideale per un weekend di relax e coccole per i futuri sposi, oppure per una cerimonia ad alta quota. Nella location è tutto all'insegna del lusso discreto, dalla spa alle suite, come ci racconta Hans Steurer, General Manager della struttura. Agli sposi potremmo offrire ovviamente un servizio completamente differenziato, partendo dalla suite, chiamiamola, nuziale, al trattamento in spa per la coppia. Ovviamente possiamo anche noi organizzare sia o in chiesa o in comune possiamo organizzare anche noi l'evento. In più possiamo riservare una delle salette bellissime che abbiamo in stile tirolese per il matrimonio stesso. Dopo il matrimonio c'è l'imbarazzo della scelta, abbiamo un pub, abbiamo un bullying, insomma abbiamo avuto per esempio gli ultimi sposi di Bergamo, loro stessi sono fermati poi altri cinque giorni perché hanno portato tutti i loro amici più cari, i parenti, li hanno portati da Bergamo a Ridanna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.